Il manto stradale di Napoli rinnova il suo look. Un intervento di 2 milioni e mezzo di euro permetterà alla Napoli Park di realizzare circa 12 mila metri quadri di nuove strisce pedonali. Il materiale utilizzato sarà più resistente, potrà durare anche due anni senza necessità di ulteriore manutenzione, ma soprattutto le nuove strisce pedonali saranno più visibili di notte o in caso di pioggia. L'assessore alla mobilità di Napoli, Anna Donati, ricorda infatti che circa il 12% delle vittime di incidenti stradali è rappresentato da pedoni e quasi il 30% di questi viene investito proprio sulle strisce pedonali. Non solo quindi un investimento a favore della sicurezza, è importante che convergerà tante parti di città, da nord a sud, da est a ovest, dove c'è più bisogno, ma che sarà fatta anche con una tecnologia particolarmente innovativa che consente alle strisce non semplicemente di essere disegnate, ma di essere con una tecnica molto particolare incollate a terra. E questo garantisce una permanenza, credo sull'ordine di due anni a queste strisce, in modo da farci risparmiare lavoro, risorse e dare più sicurezza a tutti gli utenti che stanno in mezzo alla strada. I problemi maggiori per la sicurezza stradale sono proprio gli attraversamenti pedonali che molto spesso si rendono facilmente non visibili e quindi in questo modo cerchiamo di evitare che ci siano problemi proprio sugli utenti più deboli che sono i pedoni.